Amici della Polisportiva Cingoli, buonasera. Siamo con Pala Quaresima Intervista. Stasera intervistiamo Paolo Latini. Ciao Paolo. Buonasera. Parliamo degli ultimi appuntamenti della Serie a due maschile di palla a mano. Venite da una importante vittoria in casa contro il Prato. Com'è andata la partita di sabato scorso? Abbiamo avuto delle difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo perso un po' troppe palle, abbiamo concesso dei gol semplici in contraattacco agli avversari. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, abbiamo fatto vedere cosa possiamo fare, ma c'è ancora tanto margine di miglioramento. Ora una trasferta importante in Sardegna contro il Verdezzurro Sassari, che ha dimostrato di essere una buona squadra vincendo in casa contro il Monte Brandone. Come affronterete questo impegno? Dovremmo cercare di affrontarlo al meglio e giocare la nostra migliore palla a mano. Ancora non siamo al top della forma e della nostra capacità. Dobbiamo ancora esprimere tutto il nostro potenziale. Dobbiamo farlo perché il Sassari è una squadra forte, che gioca una buona palla a mano, una palla a mano molto caratteristica. Quindi per vincere avremo bisogno della nostra migliore partita. Un'ultima battuta? Come ti stai trovando con il nuovo mister e con i compagni? Sono cambiate molte cose. Ci stiamo adattando e stiamo imparando a giocare una palla a mano un po' diversa da quella a cui eravamo abituati. Grazie Paolo. Vi ricordiamo che la partita tra Verdeazzurro Sassari e Polisportiva Cingoli si giocherà sabato prossimo 17 settembre alle ore 16.30. Buona serata a tutti.